Vediamo lo stretching per il sistema energetico, nonché muscolare e tendineo. Una piccola sequenza che potete fare ogni giorno a vostro piacimento. Tenete le gambe divaricate, ginocchia distese, inspirate, portate le mani su in congiunzione, espirate, portate le mani in congiunzione giù verso la terra. Di nuovo, inspirate, espirate. Apri il piede lateralmente, scendi in stretch. Inspira e espira naturalmente. Apri il braccio, guarda verso la mano. Apri bene la schiena. Lascia andare. Stretch profondo, allunga la gamba dietro. Apri il braccio dietro. Viral motion. Ritorna. Passa per il centro. Solleva la punta del piede esterno. Rimani. Piede bene appoggiato, a terra. Appoggia entrambi i piedi. Rimani in stretch. Cammina con le mani leggermente avanti, in modo da tenere la colonna in allungamento diagonale. Solleva i piedi. Solleva i talloni. Riappoggia. Solleva. Riappoggia. Porta il petto vicino alla terra. Cammina indietro. Ritorna. Inspira. espira, inspira, espira, ancora una volta, inspira, espira, ruota il piede naturalmente, stretch verso il basso, respira naturalmente, apri il braccio verso il cielo, guarda su, apri bene il petto, lascia andare, stretching profondo, allunga bene la gamba dietro, piccola oscillazione, il tallone dietro spinge, spiral motion, apri il braccio dietro, guarda verso la mano in alto, torna avanti, stretch frontale, solleva la punta del piede lateralmente, piede di sostegno completamente in appoggio, torna in stretch al centro, mani avanti, colonna in allungamento diagonale, spingi il petto verso la terra, solleva i talloni, giù, solleva, giù, lentamente torna al centro, prendi le caviglie, rimani in stretch, lentamente torna, inspira, espira, inspira, espira, inspira, rimani con le braccia all'altezza delle spalle, piega leggermente le gambe, chiudi gli occhi e stai.